Allora ciao belli ciao bello cia 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 Praticamente è tutta la sera che giro questo video Perché naturalmente il mio telefono come al solito Nonostante ci sia una memoria da 40 cavolo di giga Non va Non va perché non ha voglia di andare Va bene? Ok Allora Dunque vi faccio questo video Dopo che l'ho già girato 50 volte Perché È un video dove vi vorrei parlare di una cosa Ecco la mia bimba E Allora Vi metterò nel titolo il perché io voglio lasciare YouTube Allora diciamo che la situazione è un po' Grottesca A parte se ho un cadavere A parte che avevo fatto tutto un trucco Stracaruccio Non è il massimo Però insomma non era nemmeno poi così Una tegamata Però non l'ho potuto girare Perché naturalmente il mio telefono non mi ha dato modo Ok? Ora Ho dovuto mettere tutto nel telefono della mia mamma Tra parentesi che non va perché Non gli hanno dato il codice PUC No il codice PIN della scheda Visto che poi lei ha cambiato E Ora non so neanche poi come ve lo metterò Però vabbè Ce la faremo poi Dunque Stringiamo Allora Come sapete Io oramai sono 5 anni Chi mi segue da un po' Che faccio video su YouTube Il cane deve andare fuori Lei mamma non lo vuole capire Io non lo posso portare fuori Perché nonostante sto molto meglio Mi sono data pure il fondo d'inta oggi Però non posso ancora uscire E lei mamma non capisce Che quando Dimmi Non ce la faremo male ragazzi Oggi Ma pomolo E butto tutto all'aria Allora E Amore Quindi Chi mi segue da un po' Lo sa che Sono 5 anni che faccio video su YouTube Allora Inizialmente Ho cominciato Per svago Perché amo il make up Se mi richiama Vi giulie le do E Ultimamente Qual è il discorso Allora Io Ho sempre fatto video Un po' particolari Ho sempre parlato Di cose un po' particolari Cosa che Naturalmente Nel tempo Ho dovuto smettere Perché chi mi segue da un po' Sa che addirittura Una volta Al lavoro Mi hanno fatto girare Pure le palle Per questa storia Perché avevo girato un video Ma vi giuro Ma due minuti Dove vi dicevo Come stavo Che facevo E ste facce di merda Sono riusciti a Rigirarmela Ma lì c'era stato un po' Un casino Vabbè Quindi non è di certo Per questo Perché ho perso il lavoro Però C'è la sua Buona parte E di conseguenza Anche su YouTube Non posso più fare I video che facevo prima Avendo E avevo aperto Patreon Proprio per questo Per poter parlare Di cose un po' più Spinte Purtroppo adesso Il lavoro mi leva La forza Anche di fare i video Su Patreon Quindi Però questa è un'altra cosa Allora Ultimamente Non mi Allora Voi sapete benissimo Che non mi sono mai rispecchiata Nelle YouTuber Non mi sono mai sentita Una guru Io sono sempre stata Una semplicissima ragazza Che faceva video su YouTube Per passare un po' di tempo Perché amavo il make up E perché comunque Le mie amiche Non condividevano con me Questa grande passione Per il make up E quindi ho deciso Di cominciare a fare i video E si è instaurato Un rapporto fantastico Fra noi E fra voi E me E questa sicuramente È la cosa Che ha sempre E fino ad adesso Sta continuando A tenere in vita A questo canale Ultimamente Devo dire Che a parte il lavoro Che mi sta Sfinendo Perché come sapete Io ho sempre lavorato Però Comunque Riuscivo Bene o male Poi Ultimamente Questo lavoro È veramente Molto stancante E faccio davvero Davvero Sacco di fatica A girare Però quello Non sarebbe un problema Perché comunque Tra una picchia Picchia e mena Picchia e mena Qualcosa riesco A mettervi Ultimamente Purtroppo Mi sembra Che il canale Sia veramente Povero di contenuti E questa è una cosa Che mi Fa impazzire Perché Perché non mi piace Cioè nel senso Ultimamente Metto un video Semplicemente Per farvi sapere Come sto Per farvi sapere Che son viva E bon basta Cioè Solo Del cavolo Magari Pochissimi make up Anche questo Lo volevo registrare Ma il telefono Me l'ha tirata Stavamo Sai manda Un bestia Mi sono data Tanti Di rossetti Che Con iniziano A Stratecare Ecco Brava Ecco Questo Somiglia troppo A quell'altro Comunque sia Faccio Veramente Faccio Cavolo Aspettate Basta Ce l'ho messi 50 Non me ne viene Allora E Quindi Questa cosa Che il canale Povero di contenuti Non mi garba Non mi garba Fare video Che non sanno Di niente E E mi sta Un po' Scocciando Questa cosa Allora E' anche vero Che Fondamentalmente Voi mi direte Non hai mai fatto Grandi video Lo so Però Cioè Non ho mai fatto Grandi video Ok Però Comunque sia Facevo Video abbastanza A me Non dispiaceva Parlare con voi Di cose Aitamo Invece Ultimamente Non mi piace Fare video Poveri di contenuti Ed avere un canale Povero di contenuti Allora Non mi sto Assolutamente Più rispecchiando Nelle ragazze Che fanno video Assolutamente Uno perché Secondo me C'è uno smarchettamento Che è veramente Vergognoso Ultimamente E' vergognoso E indecente Cioè Troppo alla luce del sole Cioè Si vede troppo Che te stai smarchettando Un prodotto E questa cosa C'è a me Manda le bestie La cosa Più triste È che Comunque Pare Che le persone Che guardano video Vada bene così E a me Sta cosa Non va Molto a genio Però questo Chi se ne frega Ognuno Il suo canale Fa quello che vuole Però ecco Devo essere sincera Ultimamente Faccio La voglia Che prima Mi faceva fare video E quindi La passione Che mi faceva fare video Anche quando ero Stanca E tutto Adesso Non c'è Il problema È tutto lì L'unica cosa Ripeto Che mi fa fare video È il rapporto Che abbiamo creato Però Purtroppo Non sempre Il rapporto Che abbiamo creato Riesce A A darmi Quella forza Quando sono poi Così stanca Di fare Un video Ecco Non so Non so se mi sto spiegando Allora So Che per tante di voi Tante di voi Mi scrivono E so che Vi siete affezionate A me Eccetera Come del resto Io mi sono affezionata A voi Però Allora Il mio intento Diciamo Che la mia Il mio pensiero Era Smetto di fare video Per un po' Vediamo un po' Poi se comunque Mi riprende la voglia Io so già Che se smetto Di fare video Non ricomincio più Perché ripeto Non sono Il tipo Non È una cosa Che non mi rispecchia Più basta Cioè Purtroppo Nonostante So che Cioè Nonostante Tutto Cioè Nonostante Mi manchiate Nonostante Che con voi C'è un bel rapporto Sinceramente A me Mi pesa Pure Instagram Cioè Non so se avete visto Io non pubblico Più foto Boh Mi pesa un po' Il tutto Cioè Nel senso Non sono mai stata una Allora Partire dal presupposto Che ho odiato Facebook Da quando è nato Lì All'inizio Inizialmente Lo amavo perché Mi aveva fatto ritrovare A persone Che era una vita Che non vedevo Io sono una persona Che non ama i social Devo essere sincera Non amo far vedere A tutti quello che faccio Anche se Chi mi conosce Può pensare Può dire Che sono una Che a che ruona So quello So quell'altro Però Non sono una persona E sinceramente Me ne può frega Un cazzo di meno Di quello che fa la gente Cioè Ne vado a vedere Le foto di Tizia Che è andata al mare Non me ne può frega De meno Quindi Sinceramente Non amo neanche Tantissimo Questa smania Che la gente ha Sui social Ora come ora Come avete visto Non faccio neanche Tante collaborazioni Perché Una ragazza Mi aveva detto Mi mandava un pacco Di prodotti E questo pacco Non è più Guarda Non l'ho spedito Cioè Cione proprio Non so neanche Se questa cosa Arriverà mai Però a me Non tange Sinceramente Il pacco In sé Per sé Però Ecco Anche quello Ho fatto Ho preso quello Di rosegal Perché volevo Prendere due o tre Cosine Ma Sinceramente Mi pesa proprio Anche fare video A livello Capito come Quindi Buon ragazzi Non lo so Non so cosa dire Non so cosa pensare Non so se continuerò Non so se non continuerò Non lo so So solo Che mi dispiacerebbe Comunque un sacco Perché Vi voglio bene Però comunque Sarebbe stato Un bel percorso di vita Se è stata una parte Del mio percorso di vita E Sapete che ci tengo Anche a farvi sapere Come sto Quello che faccio Che comunque Ultimamente Ho veramente Avuto un periodo Un po' particolare Ho avuto delle ricadute Sono stata un po' Ragazzi Anche il percorso Che sto affrontando Non è semplice Non è semplice Parlarvene Perché comunque Oramai Come vi ho detto Non posso dire troppo E quindi Contenendomi Non riesco molto Iaia Cioè che cazzo Fon queste mani Non riesco molto bene Anche a Anche a parlarvene A spiegarvi le cose Quindi c'è Lo sapete Io non mento Cioè a me non piace Mentire Anche perché Non ho mai mentito In vita mia A figurarsi Se lo comincio A farlo adesso Era l'in E quindi niente Questo è quello Che vi volevo dire Avevo fatto un video Dove vi più o meno Spiegavo cosa Avevo usato Per fare il trucco Perché lo volevo Registrare E poi naturalmente Il mio grandissimo Telefono da 300 euro Vedi perché Io non Mamma non me lo regalava Un telefono a 300 euro A parte Sono meno Asciuffecata Cioè Ho avuto telefoni Che costavano meno E sono stati migliori Di questo Quindi Comunque Questo era Quello che più o meno Vi volevo dire Io vedo gente E comunque fa video Da una vita Da una vita Però ragazzi Non lo so Io Questo è quello Che mi sentivo di dirvi Questo è quello Che mi sento adesso Chissà Vediamo un po' Che fai a gamba all'aria? Porcelloni Chi la vedete A gamba all'aria La zuccolona Ora si gioca Sì un pochino Chi vi va Va bene Niente Questo era Quello che vi volevo dire Quindi Per adesso Non è una cosa sicura Dai Però Le motivazioni Sono queste E Sono sincera La voglia C'è sempre meno Io Non so Ripeto Se dipende Ma poi Non mi piace Avere un canale Povero di contenuti Cioè A me mi piace Parlare con voi Di cose Comunque anche Belle Importanti Voi lo sapete Come la penso Su determinate cose Su determinati argomenti E purtroppo Ultimamente Mi sento parecchio Anche ristretta Sotto Quell'aspetto E già questo Non mi piace E allo stesso tempo Non mi piace Neanche fare video Troppo Del cazzo Cioè Allora Parliamoci Chiaro Io oramai Sono Forse un anno Due Che faccio Veramente video Del cazzo Cioè Dove Non dico Assolutamente Niente Non faccio Assolutamente Niente Quando io Vi dico Ancora Mi chiedo Perché mi guardate Io lo so Perché è lo stesso Affetto Che porta a me A fare video Ok Il vostro Guardare i miei video È lo stesso Affetto Che porta a me A farli Ma per il resto Parliamoci Chiaro Cioè Non monto video Non ho Un buon montaggio Di video Non faccio video Con prodotti Particolarmente Nuovi Dove vi possa Dire grandi cose Cioè Sono a disgraziata Sono a poveraccia Io sono la poveraccia Di youtube E questo io Lo so Me ne rendo conto E a me sta bene Così Anche perché C'è Folle scarpe Comunque a tante Nella vita normale Venite Prego Vieni cara Però Cioè Ragazzi Boh Che vedevo di Questo era quello Che mi sentivo di dirvi Io Mi rendo Assolutamente Straponto Della cosa Qual è Però Detto questo Io vi mando un bacio Spero che stiate bene La La diarrea Si Sì Sì Ok La varicella Sta molto meglio E in un paio di giorni Spero comunque Di essere Di nuovo attiva Più che altro Uscire di casa Perché qui Me la faccio Chiù Mentre la mia bambina Si spulcia Voglio vedere Se riesco a farvi Almeno sto video Di make up Perché cazzo Uh Caspiterina È un botto Un parlo di make up Quindi Ciao Allora